Ma sai a che ora arrivano? No, non lo so, non lo so. Non sai mai niente, non lo sai. Dai, dai che ce la fai, dai, dai che ce la fai, dai. Facile dirlo per te, facile. Senti Gio Luca, piuttosto, sono pronte, hai finito? Sì, sono pronte, sono pronte. Ma dai, con tutte le persone che ci sono scelte a dicembre, ma proprio a me dovevi farle tagliare. Ma sei di una noia, sei sempre lì a lamentarti. E il mare è troppo trasparente, e i pesci sono troppo pesci, e il deserto è troppo deserto, è caldo, fa caldo, e per due cipolle. Due cipolle! Porca miseria, dai, ma dammene qua un po', va. Grazie. Denis, è pronto il basilico? Eccolo, 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 eccolo. Guarda che bello. Bello, bello. Basilico italiano. Senti ma, l'ara è condizionata? Qua, accendala no eh? Eh, eh. Mi sono dimenticato, le cipolle. Eh, le cipolle, le cipolle. Oh, certo che accendere il condizionatore a dicembre, bella la vita a Sharma. Oh, a Sharma a dicembre, una meraviglia. Una meraviglia, se non tagli le cipolle, le cipolle. Oh, ma cipolle ne abbiamo? Ah, non so, chiedi all'esperto qua. Oh, Denis, ci siamo, vieni col pomodoro. Eccoli, avanti col pomodoro. Ciao! Oh, ciao! Ciao! E' un grande offertore al mercato di Sharma. Ho buttato 5 kg di cipolle. No! No, le cipolle, no! Finisci tu, che l'acqua bolle, ora di buttare la pasta. Dai, già, non fare così, che è quasi Natale. Eh, Natale, tagliare le cipolle! Le cipolle! Dai, 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 che se fai bravo smetti di piangere, ti faccio vedere il video di Natale. Oh, senza cipolle, però, eh! Perché è pronto? Oh, il video, sì, sì, l'abbiamo finito. E' quello con Babbo Natale, che lo mandiamo a vedere tutti i posti più belli di Sharma. Ma tutti proprio, però, oh, non lo guardiamo adesso, aspettiamo che arrivino tutti. Ok, ok, è rovinato, è rovinato. Ehi, mi sa che sono già qui. Guarda un po'. Oh, siete arrivati! Gianluca, va che sono arrivati tutti. Sì, poverino, sì, vabbè. Oh, e visto che siamo qua e ci siamo tutti, direi che può partire il video delle cipolle. No, le cipolle! Ma quali cipolle, cipolle? Fai partire il video di Natale, dai! Sì, va bene, va bene. Buona visione! E buon Natale a tutti! E buon Natale a tutti! Caro Babbo Natale, sono Rudolf, la tua renna preferita. Volevo informarti che i ragazzi ed io, con quel caldo che fa Sharma anche se siamo a dicembre, non ci pensiamo neanche un po' di venire a lavorare lì. Fa troppo caldo davvero? Abbiamo chiesto ai nostri cugini cavalli che vivono lì di contattarti. Loro sì che sono abituati al caldissimo di Sharma, mica come noi. Buon Natale, Rudolf e le tue renne del Palo Nord. Avete visto dei cavalli qua attorno? E va bene, come sempre deve pensarci Babbo Natale. Babbo Natale? Sì, sono proprio io, ho bisogno del tuo aiuto, Gwendo. Ma certo, Babbo Natale, dimmi, cosa posso fare per te? Sto cercando i miei aiutanti, hai mica visto dei cavalli? Che dovrebbero essere cugini delle mie renne del Polo Nord? Certo che sì, guarda, sto laggiù. Certo che sì, guarda, sto raggiù. Sto cercando i miei aiutanti. Sto cercando i miei aiutanti Re Musica 1, ogni singa ok? Ok Musica 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 Bello, 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 grazie. Let's check. Yeah! Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, 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 sì.